In questa serie di brevissimi video stiamo imparando la tecnica per capire le equivalenze logiche di frasi che contengano negazioni e quantificatori. Allora, negare che ogni animale feroce equivale a quale tra le seguenti frasi. Puoi leggerle con calma, mettere pausa se vuoi rispondere da solo, tra un attimo vediamo la soluzione in cui viene spiegato il metodo per affrontare questi problemi. Prima di rispondere riprendo molto velocemente la teoria. Abbiamo due tipi di quantificatori, quelli universali rappresentati con questa rovesciata, che vuol dire tutti, ogni, eccetera, e quelli esistenziali, che vuol dire che ne esiste almeno uno, rappresentati con la rovesciata. Allora, quando abbiamo una negazione abbinata a un quantificatore universale, questa negazione può essere trasferita al predicato, però per mantenere l'equivalenza logica bisogna trasformare il quantificatore da universale a esistenziale. Applichiamo questa regola generale al nostro esempio specifico. Allora, noi stiamo negando che ogni animale è feroce, quindi non ogni animale feroce diventa esiste, quindi il non è andato via, però il non si è trasferito al predicato, quindi esiste un animale non feroce. Ora andiamo a confrontarlo con le nostre risposte, e notiamo che la risposta D esiste, o c'è almeno un, sono sinonimi nella lingua italiana, quindi c'è almeno un animale che non è feroce. Se sei interessato a questo tipo di quiz, sul mio canale YouTube, che è prevalentemente di fisica e matematica, però troverai anche una playlist di logica ricca di brevi video con quesiti simili a questo. Quindi se sei interessato puoi salvarla e iscriverti al canale. Grazie, alla prossima!